Salve, molti di voi non sanno che anche in Campania esiste la lista Bonino Pannella a sostegno di De Luca, candidato presidente. E votare la lista Bonino Pannella significa portare in Consiglio regionale un patrimonio di legalità, di libertà, di nobiltà della politica, tutti obiettivi per i quali ho combattuto per decenni con Marco Pannella e tanti altri compagni che vi sono sconosciuti. E il problema della Campania è il problema di tutta l'Italia, l'illegalità delle istituzioni. Noi lo abbiamo reso manifesto in questo processo elettorale con l'illegalità delle liste e delle firme. Ma illegalità significa anche devastazione del territorio, significa lottizzazione della sanità, significa appalti truccati, significa una giustizia che ci mette decenni per portare a termine un processo. Noi siamo il partito della legalità e delle legalizzazioni e con le nostre battaglie è possibile sconfiggere le camorre organizzate. Ed è per questi obiettivi, per la nostra storia, per i volti e i nomi che le racchiudono, che io vi chiedo anche in Campania e per De Luca, presidente, di votare la lista Bonino Pannella. Buon voto! Buon voto!